Sì, si sarebbero concentrati sul Fular ritrovato lo scorso 20 gennaio a fianco al corpo di Andrea Rabciuk nel casolare che vedete alle mie spalle lungo la Monte Carottese vicino Iesi. Gli accertamenti ripetibili da parte dei carabinieri del RIS di Roma che cercano di capire se sul Fular oltre al DNA di Andrea ci siano anche tracce di DNA di terze persone, si aprirebbe a quel punto di nuovo uno scenario tutto diverso da quello configurato al momento del ritrovamento del corpo da parte degli investigatori con il Fular ma anche con la scritta lasciata da Andrea, anche questa sotto esame. Si aprirebbero scenari tutti diversi, ricordiamo che resta unico indagato, unico al momento il fidanzato di Andrea Simone Gresti per omicidio volontario e per istigazione al suicidio in un momento di massimo riservo da parte degli investigatori che non lasciano trapelare nessuna informazione, presenti anche gli avvocati all'esame dei RIS, gli avvocati delle parti anche all'esame del RIS di Roma e soprattutto non è stata ancora riconsegnata la salma di Andrea ai familiari, alla mamma che continua a venire qui quasi ogni giorno per cercare momenti di raccoglimento. Quindi c'è grande riservo in questa fase per quel che riguarda le indagini, è stata anche dissequestrata l'auto di proprietà del papà di Simone Gresti e soprattutto la procura di Ancona continua ad indagare su quello che resta il giallo della Monte Carottese e che ha molto turbato gli abitanti dei paesi che sono qui vicini fra Castelplanio e Monte Carotto e che davvero sono rimasti molto turbati da questa vicenda tanto che quasi ogni giorno qui come vedete vengono deposti dei fiori.